Allora, primo classificato nella sua categoria, quindi con il diploma di... ...e schiaccia il pulsante, arriva da top, accendendo il fuoco... ...dai Matteo! Vai, vai Matteo, vai, vai, dai, dai Matteo, dai, dai, via, via, dai, via, oh, dai, ok 12.91 al Tempio di Matteo Stefani, grande speed, un vero Spider-Man sulla via 26.50 è l'altro, il Poderico di Matteo, Ale, 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 Maurizio, Ale And for Riccardo Perez, Amalo Grazie 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 Ora è il momento, ora vamos! Atenzione! Ok, ci siamo. Atenzione! Grazie 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 Grazie